Benvenuto su Momento in Cristo Channel. In questo video dal canale Momento in Cristo, presentiamo una potente preghiera allo Spirito Santo per coloro che hanno bisogno di un miracolo urgente nella loro vita. Con parole ispiratrici e piene di fede, questa preghiera cerca di portare speranza e fiducia in Colui che è in grado di far accadere l'impossibile. In un momento di resa e di umiltà, la preghiera dello Spirito Santo per un miracolo urgente è un invito a fidarsi di Dio in mezzo alle difficoltà. Porta un messaggio di speranza e rinnovamento, indicando la possibilità di una trasformazione completa e di una vittoria sorprendente. Se hai bisogno di un miracolo nella tua vita, unisciti a noi in questa sincera e profonda preghiera allo Spirito Santo. Con l'aiuto di Dio, crediamo che nulla sia impossibile e che un miracolo potrebbe essere in arrivo. Segui questo messaggio edificante e trova la forza, il coraggio e la fede per superare gli ostacoli e andare avanti nel tuo viaggio. Preghiera potente allo Spirito Santo per un miracolo immediato. Divino Spirito Santo, so che tu sei il Dio dell'impossibile e che la tua misericordia è infinita. Pertanto, metto tutte le mie preoccupazioni, ansie e paure nelle tue mani, fiducioso che tu hai il controllo su tutte le cose. Divino Spirito Santo, tu che sei il consolatore e la guida dei cuori afflitti, vengo a te con umiltà e fiducia, chiedendo la tua misericordia e grazia in questo momento di estrema urgenza. Grido per un miracolo nella mia vita, un intervento divino che solo tu puoi compiere. Concedimi la tua pace e la tua forza, affinché io possa sopportare questa prova e uscirne più forte. Possano il tuo potente amore e la tua compassione guarire tutti i miei dolori, dolori e sofferenze. Possa la tua saggezza illuminare il mio cammino e guidarmi verso la soluzione di cui ho tanto bisogno. Confido in te, oh Spirito Santo, e credo che nulla è impossibile per te. Possa la tua luce risplendere su di me, dissipando l'oscurità e riportando speranza e gioia nella mia vita. Ti ringrazio in anticipo per il miracolo che so che farai, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grido per un miracolo urgente nella mia vita, affinché io possa sperimentare la tua potenza e la tua bontà in tutta la sua pienezza. La tua grazia mi accompagni in ogni momento, concedendomi la forza necessaria per superare ogni avversità. Possa la tua potente mano toccare la mia vita, trasformando tutto ciò che è sbagliato in benedizioni e opportunità. Possa il tuo amore incondizionato avvolgermi, guarire tutte le mie ferite e farmi rinascere a una vita nuova e abbondante. Ti ringrazio, oh Spirito Santo, per aver ascoltato la mia preghiera e per aver agito in mio favore. So che sei sempre con me, proteggendomi e guidandomi, e che nulla può separarmi dal tuo amore. Sia fatta la tua volontà nella mia vita, come in cielo. Ti adoro, ti lodo e ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che fai per me. Divino Spirito Santo, grido per un miracolo urgente nella mia vita, sapendo che solo tu puoi far accadere l'impossibile. Possa la tua potente mano essere su di me, benedicendo ogni area della mia vita e trasformando la mia situazione in una storia di vittoria. Possa la tua presenza manifestarsi in ogni dettaglio della mia vita, portando pace, gioia e speranza. Possa la tua potenza sostenermi nelle tribolazioni, rafforzando la mia fede e dandomi coraggio per affrontare qualsiasi sfida. credo che tu sei il Dio che fa miracoli e che sei disposto ad agire per conto di coloro che confidano in te. Perciò mi metto davanti a te, affidando nelle tue mani la mia vita e i miei problemi. Sia fatta la tua volontà nella mia vita, come in cielo. Possano i tuoi piani realizzarsi in me, portandomi a sperimentare il meglio che hai per me. Possa il tuo nome essere glorificato in ogni cosa, oggi e per sempre. Ti ringrazio in anticipo per il miracolo che so che farai, nel nome di Gesù, Amen. Divino Spirito Santo, ti chiedo un miracolo urgente nella mia vita, sapendo che tu sei il Dio che guarisce, restaura e trasforma. Confido nella tua fedeltà e nel tuo amore, sapendo che sei in grado di fare molto di più di quanto io possa chiedere o immaginare. Possa la tua luce risplendere su di me, dissipando tutte le tenebre che circondano la mia vita. Possa la tua pace avvolgermi, calmare il mio cuore e rinnovare la mia speranza. La tua grazia mi accompagni, rafforzandomi in mezzo alle difficoltà e guidandomi a superare tutti gli ostacoli. So che hai un piano perfetto per la mia vita, e quel piano include compiere grandi miracoli per mio conto. Pertanto, mi arrendo alla tua volontà e mi sottometto ai tuoi propositi, sapendo che tu sei il Signore della mia vita. Sia esaltato il tuo nome su tutta la terra, e la tua gloria riempia il mio cuore e la mia vita. Ti ringrazio in anticipo per il miracolo che so che farai, nel nome di Gesù, Amen. Amen. Alla fine di questo video, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale Momento in Cristo e ad attivare le notifiche per ricevere altri contenuti edificanti come questo. Lascia il tuo like e condividi con chi ha bisogno di un messaggio di speranza e rinnovamento nella propria vita. Ricorda che lo Spirito Santo è sempre presente nella nostra vita, pronto a guidarci, rafforzarci e confortarci. Con fede e fiducia, possiamo chiedere un miracolo urgente e credere che Dio è in grado di far accadere l'impossibile. Possa questa preghiera portare pace, speranza e rinnovamento nella tua vita e possa tu sperimentare la presenza dello Spirito Santo in ogni momento. Fino al prossimo video, che Dio ti benedica e illumini la tua strada.